Ciao ragazzi! Cosa ci faccio? Settuto sul divano con in braccio un trolley? No, niente di strano, è solo che oggi vorrei parlarvi del bagaglio a mano Ryanair. Croce delizia di ogni viaggiatore low cost. Comincio subito col dirvi che nel prezzo del bigliettiero Ryanair sono compresi due bagagli a mano. Un bagaglio a mano grande, delle dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm e di peso massimo 10 kg e un bagaglio più piccolo, come ad esempio una borsetta, di dimensioni massime di 35 x 20 x 20 cm. Se al momento dell'imbarco questi bagagli superano i limiti consentiti verranno imbarcati nella stiva dietro il pagamento di un sovrapprezzo. Fate attenzione perché dal 15 gennaio 2018 i due bagagli resteranno sempre gratuiti ma solo chi acquisterà l'imbarco prioritario, potrà portare nella cabina il bagaglio a mano più grande. Agli altri verrà invece imbarcato gratuitamente nella stiva. A tutti però verrà concesso di portare in cabina il bagaglio più piccolo. Mi raccomando rispettate i limiti e buon viaggio!